Quella di oggi è una giornata storica per Pescara perché partiranno ufficialmente i lavori questa mattina per il taglio della diga foranea del vecchio. Assolutamente sì, però riterrei che il valore non è soltanto della città di Pescara ma è dell'economia regionale in senso lato. Cioè tutta la regione, anche oltre, ha benefici dalla realizzazione e dalla partenza di questo lavoro che riguarda il taglio della diga foranea. Oggi è qui l'impresa che si è aggiudicato i lavori già con le proprie maestranze per impiantare il cantiere finalizzato all'apertura della diga per un braccio di circa 70 metri che dovrà poi essere l'area che convoglierà l'uscita del fiume al di fuori della diga foranea. Ci siamo finalmente la regione, il comune, la provincia che tanto hanno dato e tanto si sono spesi per questa opera finalmente avviano i lavori di ricostruzione del porto di Pescara sia sotto l'aspetto turistico ma anche per i benefici che avremo con la qualità dell'acqua per quanto riguarda la balneazione e quindi anche il turismo estivo. Quanto dureranno i lavori? I lavori sono contabilizzati, programmati intorno a 10 mesi però contiamo che l'impresa che è un'impresa internazionale di valore veramente importante possa compiere il tutto nei tempi ristretti tenendo conto che poi ci sono i periodi delle stagioni balneari entro le quali non si può operare per evitare il movimento dell'acqua e quindi creazione di problemi per la balneazione.